Con il suo mantello e le grandi doti intellettive, il Puli è un ottimo laboratore, un eccellente guardiano, è un perfetto compagno per la famiglia. Usato per secoli come cane da pastore per le greggi in Ungheria, il Puli, il cui nome significa conduttore, durante le invasioni del XVI secolo fu accoppiato con altre razze, di cane da pastore. Nei secoli seguenti la razza è stata svalutata, fino a quando nel 1923 il Puli è stato riportato al suo standard di origine. Lo standard originale ungherese per il Puli è stato editato per la prima volta nel 1915 e poi successivamente migliorato nel 1924, quando è stato accettato dall'AFC. La razza è stata riconosciuta dall'AKC nel 1936. La storia della razza in questo paese è stata influenzata dalla Seconda Guerra Mondiale, dopo la quale le importazioni dall'Ungheria verso l'America furono bloccate fino al 1964. Possiamo vedere molti Puli in questa presentazione. Alcuni sono meravigliosi esemplari della razza, altri un po' meno. Adesso vi aiuteremo a capire perché. L'apparenza generale è di un cane compatto, inscritto nel quadrato e bel bilanciato e di taglia media. È vigoroso, attento e attivo. Il mantello del Puli può essere cotonato o cordato, entrambi ammessi. Una delle principali caratteristiche del tipo cordato è il mantello ispido, che ricopre la testa d'ombrello e cade lungo tutto il corpo fino alla punta della coda. Tutto questo, combinato con la fluidità del suo movimento, lo rende adatto al lavoro di conduzione. Ricordati, il pelo rende il Puli più lungo e grosso di quello che è realmente, quindi controlla bene sotto il pelo per valutare la struttura. In base all'età, la crescita del pelo, sia cordato, sia cotonato, cambia profondamente l'aspetto del cane. L'altezza algarrese ideale per i maschi è di 43 cm, mentre per le femmine è di 40 cm. È accettata una differenza di 2 cm sopra o sotto questo parametro. Il corpo è iscritto in un quadrato misurato dal garese a terra e dal centro delle spalle al posteriore. Iniziamo l'esame del Puli dalla testa. È di taglia media ed è proporzionata al corpo. Il cranio è leggermente ellittico, di media larghezza. Lo stop è poco accentuato, ma non marcato. Il muso è forte e dritto. Il rapporto cranio-muso è di un terzo. Da questa angolazione possiamo vedere meglio la larghezza del cranio. Il naso è nero, la canna nasale è dritta. Le gengive devono essere scure o grigio chiaro. Le labbra dovrebbero essere pulite e tese ai larghi denti per permettere la chiusura a forbice. Che cosa possiamo dire riguardo la testa di questo cane? Il muso è più lungo rispetto all'ideale. La testa di questo cane è corretta. Il muso è un terzo della lunghezza della testa, è smussato e con una buona mascella interiore sufficientemente sviluppata sotto i denti. Ci vuole una testa proporzionata per bilanciare una mascella così forte, ma deve comunque mantenere le proporzioni rispetto al corpo. Le proporzioni della testa devono essere valutate sotto il pelo, poiché il mantello modifica l'aspetto dei cani in base alla sua crescita. Gli occhi del puli sono a mandorla, profondi e piuttosto grandi. Sono di colore marrone scuro, con striature nere o grigio chiaro. Gli occhi dovrebbero essere piatti, non rotondi e sporgenti. L'attaccatura delle orecchie è in linea con gli occhi. Sono di media dimensione e hanno la forma di V. Sono circa metà della lunghezza della testa. Queste orecchie sono attaccate troppo in alto e mostrano la tendenza a rimanere all'impuori. Orecchie di questo tipo, o orecchie che non tendono verso il basso, sono indesiderate. Queste orecchie sono collocate nel modo giusto, leggermente più basse del livello degli occhi, combinate con le corrette proporzioni degli occhi e della fronte. Questo è un adorabile studio sulla testa del puli. Ora parliamo del collo, del puli e del corpo. Il collo è forte, muscoloso e di media lunghezza e si piega dolcemente verso il garese, conferendo la forma elegante e forte. Le spalle tendono leggermente verso dietro. La lunghezza delle spalle equivale a quella che intercorre tra l'avambraccio e la scapola con un lieve angolo. Dovrebbero essere definite e forti. Il metacarpo e il gomito devono stare perfettamente in linea col garese. Il torace è moderato. Questo cane ha le spalle troppo strette insieme a un collo troppo corto. Le spalle di questo cane sono perfettamente angolate, formando un angolo di 90 gradi con l'avambraccio. Il garese, il gomito e il metacarpo formano una linea continua. La distanza fra la punta della spalla e la scapola è quasi la stessa che intercorre dalla punta della spalla al gomito. Le zampe anteriori sono dritte e forti, il metacarpo flessibile con una leggera pendenza. Visto di fronte, il petto è ampio. Le costole sono ben sostenute. I gomiti ruotano verso l'interno. Le gambe sono dritte, forti e hanno ossa medie. Le zampe davanti sono rotonde e compatte, con le dita arcuate. I cuscinetti sostengono il piede. Il puli poggia completamente sui cuscinetti. I cuscinetti e le unghie sono neri o grigio chiaro. Gli speroni, se presenti, dovrebbero essere rimossi. Il corpo del puli è longilineo, con la schiena forte, con la groppa pendente. Ricorda che il corpo dovrebbe rientrare nel quadrato, dal garese a terra e dal centro delle spalle al posteriore. La linea superiore deve essere breve, per garantire agilità alla razza. La miscolatura è netta e asciutta e l'impressione generale è di un cane solido e robusto. La gabbia toracica è ben chiusa e profonda. Secondo lo standard, il 45% del corpo è distribuito dal gomito algarrese e il restante dal gomito in giù. Il rene è piccolo, robusto e proteso verso l'alto. Questo cane è troppo lungo, il che compromette l'agilità e la resistenza al lavoro prolungato. Ricordati che il mantello potrebbe alterare la reale struttura e le proporzioni del cane, quindi non limitarti a passare le dita attraverso, ma assicurati di toccare bene al di sotto del mantello per ricavare una corretta percezione. Sotto il mantello il corpo di questo cane è ben proporzionato, quadrato e robusto. La schiena è forte con la groppa inclinata. La linea dorsale è corta, forte e lievemente protesa verso l'alto. La linea dorsale del puli può essere realmente giudicata quando è in movimento. La coda è riportata sulla schiena a formare un ricciolo. La coda si fonde con le corde del pelo, così la coda sembra fare parte della schiena, anche se il pelo della coda sembra leggermente diverso da quello del mantello. La coda deve essere tenuta alta per poterla valutare in rapporto al corpo. Se portata a sciabola o orizzontalmente, potrebbe essere penalizzata. Non dovrebbe esserci spazio tra la coda e la schiena. Vediamo il movimento corretto di questo puli. La coscia è forte e muscolosa, con i piedi posteriori che puntano in avanti. I garretti sono perpendicolari alla linea del pavimento. Questo cane ha le zampe posteriori troppo dritte, con un'angolazione troppo marcata. Questo cane ha una corretta angolazione, sia nell'anteriore che nel posteriore, il che è essenziale per il lavoro da pastore, dato che richiede una certa velocità e agilità. Per giudicare il cane con il mantello totalmente cresciuto, è importante sollevarlo in avanti, per valutare la posizione delle gambe, la parte anteriore, la parte posteriore, quando il cane si trova nella sua posa naturale. Viste da dietro, le gambe sono forti e dritte, i garretti sono corti e robusti e non devono tendere verso l'esterno. I piedi anteriori e posteriori sono rotondi e compatti, con le dita leggermente arcuate e ben chiuse. Se presente, lo sperone posteriore va rimosso. Adesso concentriamoci sul caratteristico pelo del puli. È denso, molto resistente e copre ogni parte del corpo. Consiste in un mantello superiore ondulato o riccio e un sottopelo morbido e lanoso. Queste due parti sono sempre in crescita e nel soggetto adulto formano le corde. Le corde sono ben delineate, separate l'una dall'altra. Le corde sulla testa, le orecchie e la coda hanno una consistenza diversa rispetto a quelle del tronco e delle gambe. Le corde cominciano ad apparire sul mantello del cucciolo intorno a 10 mesi di età, ma è comunque possibile vedere la formazione dei boccoli che poi definiranno le corde negli esemplari giovani. Le corde possono essere distanziate, vicine, piatte o rotonde. È ugualmente corretto. Invece non va bene un mantello troppo discontinuo. La linea superiore del puli cambia mano a mano che il pelo cresce. Il pelo del cucciolo fino a 8-10 mesi di età permette di vedere la struttura sottostante del cane. Con la crescita del mantello la trama cambia e con l'allungarsi delle corde la linea superiore muta notevolmente. Con l'allungarsi delle corde emerge la nuova forma del puli. La qualità del pelo si può capire solo da adulto, non da cuccioli. Quindi gli esemplari giovani non dovrebbero essere penalizzati. Un corretto pelo dovrebbe delineare la tipica forma ombrello della testa. Il puli potrebbe presentare anche la varietà cotonata e non c'è preferenza tra questa e quella a corde. Del punto essenziale è che siano presenti sia il sottopelo che il pelo. Non ci devono essere spazi vuoti, non ci devono essere parti lisce sulla faccia né sulle gambe. Questo non deve essere confuso con il fatto che a causa del lavoro che svolge il cane potrebbe presentare dei punti in cui il pelo è un po' più corto. In ogni caso è necessario che il giudice sollevi tutto il pelo del puli per valutare la struttura. Riguardo il colore, soltanto il nero, il nero con sfumature rosse, il grigio o il bianco è accettato. Indipendentemente dal colore del mantello, la pelle deve essere bluastra o grigia. L'ossidazione del pelo può verificarsi per l'influenza del sole o dell'aria ed è particolarmente visibile nelle punte e nella parte bassa del pelo. La tonalità dell'ossidazione è differente a seconda del colore di base, ma si può verificare in tutti i colori. Possiamo notare l'ossidazione mettendo a confronto la punta con la radice della corda. Nei cani grigi ci possono essere delle sfumature che vanno dal cioccolato all'argento. Tuttavia la sfumatura deve essere causata solo dall'ossidazione del sole. Per esempio una sfumatura scura deve trovarsi al massimo nella punta della corda, ma la radice deve essere grigia, per questo bisogna controllarle allargando le corde. Nei cani grigi l'ossidazione è maggiormente evidente rispetto agli altri colori. Come il cane nero e il grigio, anche il bianco ossida e le punte tendono all'avorio. Alla radice la pelle deve comunque essere bianca, non crema o fulvo. Nei cani grigi o nero e il grigio, l'interno di un grigio, il grigio, il grigio o il grigio o il grigio è accettabile, per quanto riguarda l'apparenza di un grigio solidale. Nei cani grigi o neri è ammessa una piccola macchia bianca sul petto, che non deve superare i due pollici di diametro. Questa è l'unica eccezione tollerata nella razza. Colori del mantello non accettati, mantelli multicolori, mantelli cioccolato, mantelli pulvo non ammessi negli Stati Uniti, ma in Italia e in Inghilterra sì.